Facciamo il cuore. Grazie a tutti. Siamo arrivati! 4, 8, 76 Grazie a tutti. 352.47 353.47 48.17 38.17 38.18 39.18 40.18 40.18 40.18 40.18 40.18 Adesso la campagna è 17, molti due e corattini ci sono a fare a tutti i versicci, arriva bene fuori, 30, 277, quindi molti due e corattini. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 passaggio a tutti 4.1.345 benvenuti e partiamo poi versetto buona benvenuti bella benvenuti e si ritorna quasi buona Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.